Il nostro ospite di oggi Paolo Cortesi Grazie per essere intervenuto nei nostri studi E grazie anche per averci portato il tuo libro L'Officina di Nostradamus si chiama È un titolo molto importante Ma soprattutto il futuro inventato delle profezie Ne parleremo il perché di questo futuro inventato Intanto da dove parte l'idea del libro? Parte dal motivo più bello per cui si fanno i libri La curiosità La curiosità Tutti abbiamo sentito almeno una volta nella nostra vita Questo nome Nostradamus La fama che lo circonda Quasi sempre si sente dire Ha indovinato E ad ogni evento storico Ritorna perennemente Le Torri Gemelle, l'assassino di Kennedy Quindi c'è sempre Nostradamus nel nostro futuro Allora mi sono chiesto, ma questo risale a più di vent'anni fa Per quale motivo Nostradamus è così famoso ancora oggi? È morto più da 400 anni ma si ristampa ancora Ma neanche con Ariosto è successo qualcosa di simile E allora ho cominciato a leggere Nostradamus direttamente Direttamente Cioè non i libri che parlano di le interpretazioni su O tutte le lucubrazioni che si possono immaginare Ho cercato di leggere esattamente la sua opera Come si fa con qualunque studioso, con qualunque intellettuale del Rinascimento Cosa ha scritto Nostradamus? E ho pensato di leggerlo come se fosse Nel modo più razionale possibile Come se fosse un uomo tra gli uomini del suo tempo Uno scrittore nella Francia del 500 Della seconda metà del 500 Cioè puoi fare un po' di biografia Chi era quando è nato? Sì, 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 biografia telegrafica Perché c'è tanto da dire Ma se si sfronda della leggenda e dell'aneddotica Non resta poi tantissimo Resta la verità Cioè quello che è stato Nostradamus Ed era un intellettuale Un filosofo naturale del tempo Lui vive nella seconda metà del Anzi, nella prima metà del 500 E si estende fino a poco oltre metà 1503-1566 E vive in un'epoca molto importante Per la storia non solo francese ma europea Le guerre di religione ad esempio La nascita dei grandi stati nazionali E lo scontro formidabile Fra Francesco I e Carlo V Cioè Francia e impero E lui nasce come erborista Erborista, si dicevano farmachetra All'epoca Quindi colui che cura con le erbe Ma all'epoca lo facevano tutti Poi improvvisamente E nulla faceva presagire questo Nella sua vita precedente Improvvisamente si scopre profeta Ha più di 40 anni Fa un viaggio Probabilmente un viaggio di studio Perché viaggiava molto Per informarsi Per aggiornarsi Era anche un po' Poseduto dal demone del viaggio Era uno che amava tanto viaggiare Bene, fa questo viaggio Arriva fino a Venezia Torna e comincia a scrivere Almanacchi di previsioni La spiegazione razionale È quella Secondo la quale Arriva a Venezia Scopre una editorialistica fittissima Un mercato librario Il migliore, il più grande Il più intenso di Europa Con specializzazione soprattutto Sulla astrologia Si appassiona Scopre questo nuovo destino Ed ecco che comincia a diventare profeta Abbandona la medicina E fa solo questo Fino alla morte Come erano questi almanacchi? Chi li comprava? Dove venivano venduti? Ah beh Gli almanacchi Nel XVI secolo Erano diffusissimi Erano diffusissimi Oggi potremmo trovare Un parallelo Ma scherzando Con gli Armoni O con gli Oscar Mondadori O con tutte le collane Di enorme Di altissima tiratura Ed erano diffusissimi Perché la gente Anche la gente Piccola Il popolo minuto Il piccolo borghese Il commerciante L'artigiano Perché sapesse leggere E già abbiamo scremato molto La fascia di possibili utenti Perché questa persona Sapesse leggere Erano puscoletti Dall'aspetto molto modesto In effetti Che contenevano un calendario E ad ogni data del calendario Era prevista Una piccola frase rivelatrice Riguardava sia il tempo Pioggia, neve, grandine Calura Ma riguardava anche Il futuro dell'uomo Con parolette molto brevi Frasi enigmatiche Successo di prelato E va a indovinare Chi è sto prelato Morte di un principe Dove, quando, chi Non si diceva Ma la gente Li leggeva avidamente Beh, se ci pensiamo Ancora oggi Per fare un paragono Un po' in casa nostra Il lunere di Smembar Che sono 150 Non so quanti anni Che esiste Allo stesso fascino Nessuno oggi Ci crede veramente Nessuno uno va a leggere Il lunere Sapendo che quel giorno Sarà veramente Però è qualcosa Di affascinante Di piacere Di carino È una piacere Di tradizione All'epoca Aveva un potere Molto più Più importante Erano molto più creduti Oggi facciamo E questi almanacchi Erano molto diffusi Ma lui è diventato Famoso già in vita Quindi all'epoca Era riuscito Ad ottenere una fama Quindi i suoi almanacchi In qualche modo Hanno avuto un riscontro Con la popolazione Ma non solo La popolazione Come dicevi tu Il piccolo borghese Ma anche I principi Diciamo Sì, sì Soprattutto i principi Infatti Ecco è questa Una delle ragioni Della fortuna Anche postuma Di Nostradamus Nostradamus Riesce Ad avere Un ascendente Probabilmente Unico Anche Sull'alta aristocrazia Addirittura Sulla corte francese Sulla Sulla nobilità Sull'alta borghesia Cioè diventa un po' Diciamo Potremmo dire oggi L'astrologo Di VIP E questo perché? Perché Nostradamus È il primo Grande Manager Di se stesso È il primo Grande Propagandista Della propria Infallibilità Ed è straordinario Perché nessuno Lo farà così bene Né prima Né dopo di lui Si presenta Si presenta come una persona Non tecnicamente Esperta Non è Forse lo vedremo Un astrologo Di grande capacità Anzi Ma si presenta come L'ultimo Dei grandi Ispirati Dallo spirito E quindi Ciò che presenta Ciò che propone Non è soltanto Il risultato Di un oroscopo Di una mappa stellare È l'intuizione Che gli viene Direttamente Dallo spirito Dell'universo Questo fascino Che lui sa coltivare Benissimo Si impone In maniera In maniera Decisa Pensi che Pensa che Pensa che Un episodio Una scena divertente Ma molto significativa E veramente Rivelatrice Pensa che Ad un assedio Durante una battaglia Beh il re di Francia Si faceva leggere Dai cortigiani Le profezie Di Nostradamus Per sapere Come andava a finire Chi vince Questa battaglia Noi o loro E si cercava La risposta Nelle profezie E così Altri esempi Di assoluta fede L'ambasciatore Veneziano A Parigi Scrive Un intero rapporto Alla Serenissima Tutto basato Sulla profezie Di Nostradamus Pensa Una cosa straordinaria Un documento Ufficiale Viene Imbastito E giustificato Dalle previsioni Di un astrologo Quindi in quell'epoca Già si credeva Che lui Riuscisse Proprio a vedere Il futuro Volevo leggere Un pezzo Del tuo libro Videl stroncò Nostradamus Come tecnico Dell'astrologia Perché commetteva Errori grossolani Ah sì Sì Ecco Questo è un aspetto Che non troverete Nei libri Filo Nostradamus Quelli che lo elogiano Che dicono Ha indovinato Ha indovinato tutto Indovinirà ancora Questo non te lo dicono Non te lo dicono Ma è una cosa Non inedita Nostradamus è vivo Per carità È tuttora attivo Vivo Operativo E qualche suo collega Forse anche un pochino Come dire Non dico invidioso Ma sospettoso Perché ha questo successo Così clamoroso Quest'uomo Cos'ha più di me E allora si comincia A fare un pochino Le pulci Alla sua opera Nel senso Tecnico E Soprattutto un astrologo Ma non è l'unico Un astrologo Si chiama Laurent Videl Lui lo faceva di professione Quindi conosceva La tecnica oroscopica Esamina Le mappe stellari Quelli che sono Chiamati gli oroscopi Diciamo oggi noi banalmente All'epoca erano di forma Quadrata Non circolare Già così capisci Com'era diversa la tecnica Ma i fondamenti Erano un linguaggio Comune e condiviso E Laurent Videl Esamina gli oroscopi E vede che Nostradamus Commette non solo Degli errori madornali Ma anche delle assenze Delle mancanze Non mette Ad esempio Tutti i pianeti Noti all'epoca È chiaro Non mette Le posizioni di sole E luna I luminari I protagonisti Della storia astrologica Insomma Praticamente fa un oroscopo Inventato Si disegna Si crea Un'astrologia personale Completamente Sconosciuta Ai tecnici del settore E Laurent Videl Scrive Ripeto Non è il solo Scrive un opuscolo In cui demolisce Nostradamus E lo insulta In un modo Oggi Scatenerebbero denunce Su denunce Lo chiama asino Lo chiama Imbecille Lo chiama C'è una frase Divertentissima Tu qui hai sbagliato Ma non posso neanche dirti dove Perché non capiresti la mia correzione Sei così ignorante Che non conosci L'ABC Dell'astrologia Eppure lui ha ottenuto Tutta la fama All'epoca E anche ricchezza Perché c'è stato Anche un ritorno economico Rispetto a quella Che era la sua attività Si 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 Nostradamus Era molto attento Al denaro Voglio dire anche Venale Ma non si parla male Di morti Quindi Parlandone come da vivo Era molto attento Al denaro E Pensa che In alcune lettere Conserviamo Una parte Certo non tutta Minoritaria Ma una parte Della sua corrispondenza Professionale In alcune lettere Si lamenta Del fatto che Non ha avuto Quanto si aspettava Un principe Lo ricompensa Con una coppa D'argento E lui dice Beh la preferivo D'oro Questo è Nostradamus Affarista Quando muore Lascia un testamento Conservato Esiste ancora oggi Testamento che I devoti I fanatici Hanno usato Per cercare Improbabili Chiavi Per decrittare Le profezie Cioè vanno a cercare Tutto dovunque Pensa Il testamento Come se uno Lasciasse le cose Apposta Perché Comunque E' divertente Anche per questo Bene Questo testamento A parte Le teorie cerebellotiche Ci fa capire Quanto fosse Enormemente ricco Quest'uomo Enormemente ricco Quest'uomo Pensa Lui dispone In contanti Di più di 3400 Livre Livre tournois È la moneta Dell'epoca 3464 Per farti capire La consistenza Di questa cifra Ti basta un dato A quell'epoca Un maestro Di scuola Elementare Prendeva 40 livre tournois All'anno 40 lire All'anno Uno stipendio Di un maestro 3464 Il bottino Di Nostradamus Perché è così ricco Perché lui Viveva Della sua professione Aveva una fama Ti dico Così enorme Che arrivava persino Alla Germania All'Italia Era di moda Farsi fare L'oroscopo Di Nostradamus Perché Nostradamus Era L'astrologo Dei VIP Ti dicevo prima E aveva dei prezzi Veramente molto alti E accumula Queste ricchezze Ingentissime Pensa che Compra case Investe denaro Questo è il nostro Nostradamus Che non si ama Ricordare Ma investe denaro In una In una In una Costruzione di un canale Come Vuole e vuole In qualche modo Moltiplicare il capitale Quindi Si occupa di questo lavoro Di ingegneria idraulica Che poi Andrà a finire Non benissimo Ma Voglio dire Sono tutte speculazioni Che lui Compia in maniera Molto oculata Molto attenta È veramente Attento al soldino Parliamo un po' Delle sue profezie Tu hai usato una parola Prima che mi è piaciuta molto Che è Decriptare Quindi erano Da interpretare E come hai raccontato All'inizio della trasmissione Tu sei andata a vedere Proprio i testi originali Di Nostradamus Dei quali hai anche fatto La traduzione Per creare Il tuo libro Certo Inventare il futuro Lui stava inventando il futuro Eh sì Secondo me sì Allora Dunque Ecco Leggere Nostradamus Non è una cosa così facile Sembra una battuta Sembra una battuta Un po' snob Non è vero Nostradamus Oggi viene ristampato Quasi parole in libertà Se tu vuoi divertire Puoi prendere Alcune edizioni Dei Nostradamus Nel corso degli ultimi vent'anni Guardare la stessa quartina Sì Apro una piccola parentesi Scusami Quartina Perché? Perché Nostradamus Come forse molti sanno Scrive in quartine Cioè Quattro versi Rima alterna Il primo rima col terzo Il secondo col quarto E sono decasillabi Dieci sillabe Ogni verso Ogni quartina È una profezia Sestante La griglia L'intelagliatura Lo scheletro Di quest'opera È divisa Diciamo così In maniera decimale Cento quartine Dieci quartine Quindi Cento quartine Sono una centuria Dieci centurie Formano il corpus Delle profezie Quindi abbiamo Un'intelagliatura numerica Che poi ritroveremo Ok È casuale Questa intelliatura america O secondo te È studiata In qualche modo Ma vedi Secondo me È È un po' È un po' Questa scelta È un po' Ispirata Da un autore Precedente E anche qui Vediamo Che c'è qualcosa Che la gente Piuttosto Non gli viene detto Perché non è bello Nel mito Nostradamus Svelare gli altarini Ma questo libro Lo vuole fare E vediamo Che un autore Pensa Un autore Che lo precede Di pochi anni Pubblica Con lo stesso editore Di Nostradamus Ok Si chiama Tio Bonhomme Ed è di Lione Quest'autore Richard Roussa Casualmente Scrive Un'opera Profetica Che è Strutturata Come saranno Strutturate Le profezie Quartine Versi Deca Sillabi Divisi In dieci Centurie Sembra Quasi Adesso non voglio Essere Troppo severo Con Nostradamus Però sicuramente Sembra che Nostradamus Sia ispirato A quest'autore Di successo D'altro non è umano Voglio dire Esce Il codice Da Vinci E c'è un filone Di autori Che lo seguono Il mistero I codici Il graal La madonna Il mistero Della maddalena Quindi è umano Che si segua La corrente Culturale Editoriale Che funziona L'ha fatto anche lui L'ha fatto anche lui Ma non è una colpa È umano Cioè Legge Nostradamus Come un essere umano Non lo umilia Anzi semmai Lo recupera Ad una dimensione credibile Allora Queste profezie Ti dicevo Sono Talmente Ambigue Come tutte le profezie Devono essere Che Alla prima lettura Sono evidentemente Incomprensibili Non è un caso Che i dadaisti La scuola Surrealista Abbia Riscoperto Amato Adottato Nostradamus Testanzarà Era un maniaco Di Nostradamus Lo leggevano Al caffè A Parigi Ma questa Apparente Follia Dicono Gli interpreti Deve nascondere Un metodo Allora Come lo spiegano Nostradamus Ha voluto Nascondere Coprire Sotto un velo Di Apparente Assurdità Il messaggio Autentico Per cercare Di capire Cosa ha detto Veramente Dobbiamo Spezzare La scorza Dura Che lo ricopre Questa è un'allegoria Di 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 Rabel Per vedere Qual è il nocciolo Comunicante E lì si sono sbizzarrite Hanno trovato di tutto e di più Quindi chiavi numerologiche Chiavi di allegoria Hanno trovato Riferimenti Crono Astrologici Qualche cosa voglia dire Cioè Ogni profezia Ogni quartina Sarebbe collegata Ad un aspetto Planetario Congiozione di Marte Questa quartina Opposizione di Saturno Quest'altra quartina Capisci bene Qui siamo nel labirinto Delle ipotesi Ipotesi che quando Vengono messe ad una Verifica Scrupolosa Razionale Oggettiva Quantificante Tutte Vengono Arregolarmente Demolite Nessuna Prova Esiste Della Autentica Infallibilità Del nostro Adamos E per Tornare E chiudo Al discorso Del testo Nostradamus Lo puoi leggere Filtrato E spesso Corrotto Da decine Di edizioni Successive Capisci Chi stampa Nostradamus Spesso ci mette Del suo Ta 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 Allora Per cercare Di avere Il messaggio Autentico E quello Che mi serviva Per questo lavoro Io ho usato Le edizioni Più vecchie Per Per Fatela molto Molto breve In un caso Ho usato La prima edizione Assoluta Ovviamente In forma Anastatica Cioè Una copia Quasi fotografica Del documento Perché è un libro Rarissimo Ci sono solo tre copie In tutto il mondo Quindi È un libro Sardinamente raro Ho usato Questa riproduzione Fotografica Della prima edizione Assoluta Per la parte Successiva Adesso ti salto Tutti i dettagli Ho utilizzato Un'edizione Che diciamo così È quella Che dà Le più alte Garanzie Di credibilità Non al 100% Lo ammetto Ma al 90% Ci arriviamo Ma le sue professie Veramente andavano Così avanti Nel tempo Appunto Di Predire Tra virgolette Anche dei fatti Contemporanei Come Le torri gemelli Oppure L'assassinio Di Kennedy Come dicevi tu Oppure È stata un'interpretazione Che hanno dato Le persone Nel tempo Perché volevano Comunque dare Un significato Ai suoi scritti Lui stesso Nostradamus Ci dice Gli è scappato Qualcosa di chiaro Quindi Approfittiamo In una delle rarissime Occasioni In cui parla chiaro Almeno così sembra Ci dice Fino a quando Fino a quale Termine cronologico Si spinge La sua visione Del futuro Lui parla Del 3797 3797 Che è un Un bel traguardo Nel tempo Avvenire Insomma È una bella data Abbastanza Lontana C'è da pensare Però anche in questo caso Qui È ovvio che non possiamo Fermarci Alla lettura Del testo In maniera Diretta E completamente Destrutturata Voglio dire Sarebbe come leggere Che so io Un poema Del Cinquecento E pensare Che dica esattamente La verità Astolfo Non è andato Sulla luna Anche se ce lo raccontano Ecco Quindi Questa data Cosa significa? Beh La prima cosa Che salta agli occhi È che è formata Da cifre 379 3797 Le cifre che sono Evidentemente Mistiche Il 3 Il 7 Il 9 Sono cifre che cristallizzano Dei significati Mistici Cabalistici Che sono evidenti Non è il 2018 Che dice Vabbè 2018 Una data come la No no 3797 E Questa Questa data Diciamo così Mistica Quasi quasi Ultrastorica Probabilmente È Un Un Confine Nostradamus È come se volesse dirci Guardate Io vi accompagno Vi prendo per mano E vi porto fino All'estrema Possibilità Della Esistenza Umana Io vi porto Fino alla soglia In cui Il tempo umano Si dissolve E diventa Il tempo Mistico Il tempo Il tempo Della divinità Quindi da qui fino alla fine del mondo Questa sarebbe la traduzione Ci sono sempre invece I nostradamiani Duri Proprio il nocciolo duro Che trova In ogni In ogni frase In ogni parola Trova Codici Trova tracce Trova indizi Ecco Per costoro La data sarebbe Tutta quanta Da elaborare Quindi Temere la 797 Sì ma Partire da dove Dalla nascita di Cristo No Forse da un'altra data Ancora E allora In base a queste loro Elucubrazioni Gratuite Inventano delle cronologie E cercano di farci stare Dentro le quartine Che pensano di aver Interpretato Insomma È veramente La caccia Al tesoro Ma ognuno si fa Le regole che vuole Certamente Molto Molto affascinante Come lo è ancora Il personaggio Di Nostradamus Oggi Però purtroppo Stiamo arrivando Alla fine Della nostra Trasmissione E mi piacerebbe Parlare anche Un po' Di te Quindi Come scrittore Volevo parlare Un po' Dei tuoi libri Quindi Questo non è Il tuo primo libro Ne hai scritti Tantissimi Volevo sapere Un po' Come è avvenuta Questa tua Carriera di scrittore Ah È come è avvenuta È avvenuta Beh È avvenuta Come tutte le cose Che 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 non possono Non avvenire Fino da Da piccolissimo Io Forse il mio Primo ricordo È sempre collegato Alla scrittura Mi ricordo Un libretto Sai quei libretti Che andavano Negli anni 60 Quando io ero Molto giovane E quegli enormi Libri Quasi Quaderani Con le grosse lettere Stampate in eretto Le figure Ed era una storia Di Gulliver Me lo dico Chiudo gli occhi Lo vedo Capito Beh io sono sempre stato Affascinato Dalla parola Scritta E parlata Qui lo sa Forse Forse E quindi E quindi Mi è sempre Mi è sempre Piaciuto Cercare di Non solo leggere Per carità Perché è la cosa Forse una delle cose Più belle Che posso immaginare Ma Mi è piaciuto Mi piaceva da subito Cercare di condividere Qualche cosa Per questo Che si scrive Si scrive unicamente Perché si cerca Un contatto Un confronto È qualche cosa Che tu dici Io la penso così Tu come la pensi Vogliamo parlarne È condivisione È dialogo È un modo Per stare assieme Anche quando Non hai fisicamente Qualcuno davanti L'officina di Nostradamus È il tuo ultimo lavoro Dove si trova Chi lo vuole comprare Dove deve andare Chi lo vuole comprare Fa benissimo Perché Chi lo vuole comprare Lo può trovare In tutte le librerie Perché è distribuito Dall'editore Carocci Che è uno dei primi Editori italiani Quindi non farà Nessuna fatica A trovarlo Quindi è in tutte le librerie È in rete È molto facile E comodo Procurarselo Grazie Paolo Per essere stato con noi Grazie a te Ringraziamo anche I nostri telespettatori Per averci seguito Arrivederci Alla prossima Grazie a tutti